Ciao a tutti, allora video velocissimo, questo sarà veramente un video molto molto veloce in cui vi faccio vedere soltanto i piccoli acquisti di filati che ho fatto esattamente oggi. Quindi io sono appena rientrata a casa e appunto ho deciso di farvi vedere quello che ho comprato. Allora, per quanto riguarda gli acquisti vi parlo soltanto di cotone, perché visto che inizia a fare piuttosto caldo, sinceramente io vicino all'acrilico e alla lana non riesco proprio ad avvicinarmi. Lo so che qualcuno di voi mi ha chiesto qualche amigurumi con l'acrilico, però il problema è che appunto, scusate se sentite i rumori di sottofondo, ma stanno facendo i lavori. Quindi vi dicevo, siccome qualcuno mi ha chiesto di qualche amigurumi in acrilico, vi dispiace rimandare un pochino perché veramente non riesco più a tenerlo in mano perché fa veramente molto caldo. Allora, iniziamo subito, quindi parliamo sempre di cotone. Questo l'ho trovato al mercato, è un 20 grammi. L'ho preso giusto per provarlo perché ho un progettino in mente, mi serviva questo color panna, la qualità non è proprio granché e purtroppo non c'è scritto il numero del filato. A volte lo scrivono all'interno, però come vedete è molto molto sottile. Io penso sia un 10-11 di spessore, poi chiaramente io vi dico la verità, solitamente non parto dal presupposto del numero, provo più di un uncinetto e vedo qual è il più adatto appunto per il lavoro che devo andare a fare. Ad esempio se devo fare un centrino mi piace che sia un pochino più sottile, quindi vado comunque sui filati più sottili, diciamo che non mi invaso molto sul numero, ma piuttosto sulla lavorazione. Quindi vedete questo lo vedo piuttosto sottile, quindi vado ad utilizzare già un uncinetto piuttosto sottile, un 1,50 o addirittura da un millimetro. Quindi comunque diciamo che voi mi chiedete spesso che tipo di uncinetto uso, che numero è il cosone. Chiaramente io ve lo dico tranquillamente e volentieri, però vi dico anche sempre provate un po' come vi trovate, perché anche se io utilizzo un filato sottile e appunto un determinato numero di uncinetto, capita che magari voi vi trovate con un uncinetto diverso, quindi dipende tutto molto anche da come lavorate. Certo si scosta di poco la differenza, però comunque provate sempre l'uncinetto con cui andate meglio, quindi a prescindere da quello che vi dico io, in generale ogni filato che andate a lavorare, soprattutto per quanto riguarda il cotone, provate sempre l'uncinetto con cui vi trovate meglio a lavorare, che vi scorre meglio. E nulla, questo è un color panna, l'ho pagato se non ero 50 centesimi, sono a bancarella al mercato, non è italiano chiaramente. Vedete qui c'è scritto made in PRC, quindi comunque è cinese. Non c'è scritto il numero, però vi ripeto, io non mi pongo particolari problemi sul numero, perché poi alla fine me ne accorgo lavorando, lavorando. Poi sempre, questo l'ho preso dal cinese, è un filato, appunto mi piaceva questo azzurro, vi dico la verità, questo azzurro polvere, diciamo, è molto di moda ultimamente. Questo invece sono 50 grammi di cotone, come vedete lo spessore è totalmente differente. Vi faccio vedere, eccolo qui, vedete che questo è molto più sottile. Questo qui invece lo trovo molto più adatto, magari ho per qualche centrino lavorato un po' più pieno, oppure per, ad esempio, degli amigurumi fatti col cotone. Quindi molto carino, perciò ho preso anche questo colore vivace e l'ho pagato 2 euro. Anche qui, ovviamente, non c'è scritto il numero, però me ne vado pure un'idea che sia un numero 5. Vado un pochino, ormai li riconosco ad occhio. Poi ho preso, invece, al mercato sempre, mi pare, se non erro, anzi questo no, questo l'ho preso dal cinese. Come vi dicevo l'altra volta per i filati cinesi, feci un video appunto apposta per i filati cinesi, con alcuni cotoni io mi trovo molto molto bene e questa è una delle marche che mi trovo molto bene. Questo è un numero 12, vedete, alcune volte se lo comprate di qualità maggiore, chiaramente vi scrivono anche il numero. Sempre cinese, vedete, sempre in PRC. Però comunque io mi trovo molto bene, ne ho tantissimi di questi gomitoli, e mi piaceva altrettanto anche questo azzurro, che vedete è decisamente differente rispetto a questo. Questo in video sembra un lilla, ma è un azzurro polvere. Questo invece è proprio un bel celeste, molto acceso, sempre molto estivo. Questo magari può andare anche bene per dei centrini, perché vedete è decisamente sottile. E in ultimo, questo l'ho trovato al mercato, questo qui non mi ricordo, sempre 2 euro se non sbaglio. Questo invece l'ho pagato 3 euro. Questa marca è una marca che io utilizzo molto molto spesso per sacchetti, per sacchetti tipo di confetti. L'ho utilizzato molto spesso per dei centrini, però chiaramente di una grammatura un po' più sottile. Questo invece è un numero 5, se non erro. Aspettate che vediamo. È un filo di scozia. Ah no, è il numero 8. Io solitamente utilizzo il numero 5, infatti lo notavo un po' più sottile rispetto agli altri. Comunque io questa macca, vedete corallo rosa, mi trovo molto bene. E vi dico la verità, ho anche qualche difficoltà a trovarla. Quindi quando trovo la bancarella fornita, questa volta non le ho presi, perché vi dico la verità, con il trasloco, il matrimonio, eccetera, eccetera, sto avendo molti problemi di spazio. Quindi sinceramente cerco di evitare di prendere troppe troppe cose. Però questo grigio, come vi dicevo anche negli altri video, io sto facendo l'arredamento con il grigio, sinceramente mi piaceva l'idea di fare qualche decorazione per la casa, appunto, con il grigio, che sono appunto i miei colori. Questo qui l'ho pagato 3 euro, non so se ve l'ho detto. E come vi dicevo, è un filo di scozia, 100% cotone, da 100 grammi, numero 8. Se vi interessa il colore, questo è appunto il colore. Qui c'è scritto anche come lavarlo, se non erro, penso, penso sia questo, no, forse no. No, buh, non lo so. Ah, per la guida per utilizzare gli uncinetti. Però vi dicevo, io queste sono cose che non leggo, perché vi dico la verità, vado un po' a intuito. O comunque vado, vedo lavorando, lavorando, qual è l'uncinetto con cui mi trovo meglio. E nulla. Questi sono i miei quattro gomitoli per questi acquisti stamattina. Ci tenevo a farveli vedere, perché lo sapete che, appunto, mi piace farvi vedere i miei acquisti per quanto riguarda l'uncinetto e non solo. E nulla. Spero che questo video vi sia stato utile. Fatemi sapere se voi utilizzate una di queste marche, se avete qualche progetto in mente particolare. Io appena posso, perché vi dicevo appunto del matrimonio, il tempo purtroppo inizia a scarseggiare perché siamo agli sgoccioli. Quindi comunque cerco di fare il possibile per accontentare tutte le vostre richieste. E nulla. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.